Ciao a tutti voi da Rosi, Riccardi Auto, sede di Magenta e quindi Giovanni, ospiti della nostra trasmissione responsabile. Ciao Giovanni. Ciao Rosi, benvenuti a tutti in Riccardi Auto. Inizierei subito con un doveroso grazie a tutti coloro che il mese scorso, nonostante il periodo particolare che stiamo attraversando, ci hanno accordato la loro fiducia facendoci ottenere dei risultati veramente importanti, quindi ancora grazie a tutti voi. Inizierei subito con le promozioni che Riccardi Auto mette in campo per questo mese. Verranno tutte denominate super rottamazione, per un semplice motivo, quindi verrà riconosciuta la rottamazione, quindi bonus rottamazione a tutta la nostra clientela, anche a coloro che non possiedono un'auto da rottamare o che magari hanno un'auto da permutare, quindi questo bonus verrà riconosciuto a tutti i nostri clienti che verranno a visitarci e acquistare un'autovettura da noi. Inizierei subito dalla nostra City Car, novità comunque in casa Opel, anche se ormai vettura consolidata nel mondo auto, gli sono stati riconosciuti diversi premi. Stiamo parlando di una City Car che io l'ho sempre definita a prova di futuro, quindi un'autovettura che offre un piacere di guida ai massimi livelli, sfruttando appunto tutta la tecnologia che offre, offrono i nostri propulsori, quindi i motori di ultima generazione, tutti Euro 6, quindi in regola con le future normative sull'inquinamento. I diesel addirittura sono Euro 6 D-Temp, quindi anche essi quelli con bassissime emissioni. Pensate che questi motori turbodiesel emettono meno inquinamento rispetto ai benzina, quindi approfittatene nonostante quello che si può sentire e leggere. Tonologia, oserei dire, da Top Car, quindi un'auto sulla quale Opel ha investito parecchio. Quindi dicevamo bassi consumi, alte prestazioni, motorizzazioni, benzina che vanno da 75 a 130 cavalli su propulsione 1.2, poi c'è una motorizzazione come dicevo prima diesel e anche una versione totalmente elettrica che ne parleremo più avanti. Come potete notare un design grintoso, i dettagli sono a quanto sofisticati. Gli interni trasmettono un senso di qualità premium perché vengono usati in materiali che generalmente sono destinate a vetture di categoria superiore. L'offerta che Ricardiauto vi propone per questo mese, sempre super rottamazione, è per una Corsa Edition 1.2 da 75 cavalli a soli 139 euro al mese per 36 mesi con il metodo di acquisto scelta Opel. Quindi troverete all'interno di questo progetto di acquisto l'assicurazione, incendio e furto, la manutenzione ordinaria, l'estensione della garanzia e in più omaggiato un anno di polizza protezione salute. Per i dettagli venite in concessionaria a parlarne che è veramente interessante, visto il periodo che stiamo passando abbiamo pensato bene di inserirvi anche questa polizza e tutti questi servizi valgono per tutti i tre anni. Poi alla fine, come accade su questi metodi di acquisto scelta Opel, siete liberi di decidere se tenervi l'autovettura e riscattarla oppure restituirla o addirittura, come accade molto spesso, sostituirla con un'altra tipologia o cambiando magari coloro motorizzazione. Nel caso invece voleste fare il passo su un allestimento superiore possiamo proporvi un Elegance 1.2 da 100 cavalli a 289 euro al mese sempre per 36 mesi, però con il metodo d'acquisto free to move lease, quindi c'è la possibilità di offrire il noleggio anche ai privati, è uno l'inclusive, quindi praticamente zero pensieri. La vostra unica preoccupazione è mettere il carburante, tutto il resto è incluso nel canone free to move. Abbiamo lasciato in campo sempre l'offerta per i neopatentati, abbiamo pensato di offrire Opel Corsa nell'allestimento sempre Elegance, quindi il top di gamma da 75 cavalli, col sistema free to move, quindi zero pensieri, solo il carburante, per la durata di 12 mesi, quindi il primo anno di guida, a 299 euro al mese e poi alla fine scegliete voi se tenervi l'autovettura, sostituirla o restituirla. Corsa E, Corsa Elettrica, cosa dire di questa autovettura? 100% elettrica, fino a 330 km di autonomia, zero emissioni ovviamente, fino all'80% di ricarica in solo 30 minuti con la ricarica rapida. Potete scegliere anche nell'utilizzo, nonostante che sia un'autovettura ecologica, se usarla in modalità ecologica o modalità sportiva. Io lo dico sempre, il rumore al minimo quasi a zero, potenza al massimo, perché stiamo parlando di un'autovettura che sviluppa ben 136 cavalli e adatta anche per i neopatentati. Ve la proponiamo sempre con la super rotamazione Riccardi Auto, con il metodo d'acquisto scelta Opel da 189 euro al mese per 36 mesi, con tutti i nostri servizi inclusi sempre per tutta la durata del progetto. In questo caso, visto che è una novità assoluta, vi invitiamo, anzi vi invito personalmente a telefonare in concessionaria e prenotare il vostro test drive. Abbiamo qualche autovettura disponibile per poterlo effettuare. Nel caso potete visitarci anche sul nostro sito www.riccardiauto.com, sui social, quindi Facebook, Instagram, Twitter e quant'altro, per rimanere sempre aggiornati sulle novità e tenersi in contatto sempre con il nostro back office. Ricordo a questo punto anche le nostre sedi, perché ci troviamo anche oggi a Teolona, quindi nella zona di Busto Arsizio, in corso Sempione 68, dove potete anche lì prenotare il vostro test drive per la corsa elettrica o addirittura per il Gran Lampev, quindi per l'ibrido. E l'altra nostra sede è di Assago Sempre, quindi nella zona di Gallarate, in via Sempione numero 18. Quindi tutti i servizi che vi vengono offerti a Magenta, tutte le promozioni che vi vengono offerte dalla sede centrale di Magenta vengono sempre replicati in tutte le nostre sedi. Ora passerei a Crossland X, che come definirlo il nostro crossover elegante, design da SUV, quindi un'autovettura, anzi oserei dire un crossover che raggruppa le caratteristiche di un'autovettura e di un SUV. Motori sempre anche in questo caso ad altissima efficienza, versatilità ovviamente è data dal fatto che è un'autovettura destinata ad avere un'altissima versatilità, comfort e sicurezza ai massimi livelli della propria categoria. Motorizzazioni benzina da 83-130 cavalli e turbodiesel da 102-120 cavalli. Ve la proponiamo oggi con la super rotamazione Riccardi Auto, solo e esclusivamente per tutte le vetture in stock, con il metodo scelta Opel a solo 159 euro al mese, vi potete portare a casa una 1.2 Admas da 83 cavalli, sempre con inclusa la polizza Opel Protection gratuita, quindi la polizza salute gratuita, 159 euro al mese per 36 mesi, incendio, furto, manutenzione ordinaria, garanzia stesa e assistenza stradale per tutta la durata del progetto. Anche in questo caso il mio invito è venire a visionare l'auto e provarla e apprezzare le caratteristiche di spaziosità interna e compattezza esterna. Un'autovettura prevalentemente destinata all'utilizzo familiare, chi fa sport, chi ha bisogno di grandi spazi interni. Ora passerei direttamente al SUV da un design entusiasmante, quindi il Grand Land X, il nostro SUV, potremmo chiamarlo brutalmente il nostro grande SUV, anche se le dimensioni esterne sono estremamente compatte, quindi stiamo parlando di un'autovettura di soli 4,45 metri di lunghezza che però per queste linee dinamiche dà un senso di generosità sotto il fattore estetico, offrendo degli spazi interni ad altissimi livelli e materiali sempre utilizzati ad altissimo livello. Motori anche in questo caso sempre di ultima generazione, tutti i RO6 come omologazione, i diesel sono tutti i RO6 di tempo, lo sottolineo perché in questo periodo è estremamente importante che voi capiate che acquistando un diesel si inquina meno rispetto a un benzina e io oserei dire tante volte anche qualcosa in meno delle ibride e delle elettriche. E potete circolare fino al 2030 e oltre. Esatto, sempre senza problemi, comunque veniteci a trovare, confrontiamoci, vedrete che andremo d'accordo. Comfort, massimi livelli della categoria ve l'ho già detto, motorizzazioni, benzina 1.2 da 130 cavalli, 1.6 benzina 180, diesel 130 cavalli anche automatico, 2.000 turbodiesel anche col cambio automatico da 177 cavalli. Oggi per le vetture stocco la super rotamazione Riccardi vi proponiamo con scelta Opel Grandland X a 199 euro al mese per tre anni, sempre con tutti i nostri servizi inclusi. Potete acquistare in questo caso una Grandland X 1.5 turbodiesel a 130 cavalli edition 2020. Oppure col metodo Free to Move Lisa 289 euro al mese, sempre per tre anni, zero pensieri, ci mettete solo il carburante. Abbiamo pensato un'offerta specifica anche per la Hybrid Plug-in. Praticamente avete a disposizione una autovettura con un motore benzina da 200 cavalli, due motori elettrici per un totale di 300 cavalli, con la possibilità di usufruire e anche ottenere degli incentivi statali. E ve lo proponiamo con scelta Opel a 369 euro al mese, sempre per tre anni, compresa di tutti i nostri servizi, o col Free to Move lease a 399 euro al mese, a zero pensieri. Bene, visto che le offerte sono veramente tante, a questo punto non mi resta che proporvi delle super offerte per i veicoli commerciali, sempre tutte, inclusi dalla superrottamazione, che sarà il live moti per tutto questo mese. Inizierei, come poi i veicoli vedrete dalle immagini, da combo cargo, quindi il nostro veicolo commerciale di gamma medio-piccola, tre posti, due lunghezze, portata fino a 10 quintali, possibilità di avere anche la versione a doppia gabina che vi può dare la possibilità di usufruire fino a 5 posti, motorizzazioni, un 1.2 benzina da 110 cavalli e una gamma di motorizzazioni turbodiesel, sempre Euro 6 D-Temp, quindi a bassissime emissioni, da 75 a 130 cavalli. Oggi ve lo proponiamo a 139 euro al mese, anzi solo 139 euro al mese, con leasing top, quindi con un leasing della durata di quattro anni, con già incluso tutta l'assistenza stradale, la manutenzione ordinaria, incendio, furto, cristalli, atti vandalici e quant'altro. Riccardi Auto vi omaggia un anno di RC Auto e un anno di polizza protezione salute, per tutti i dettagli ovviamente sempre in concessionaria a chiedere delle informazioni e ovviamente farvi fare un preventivo. Ora passerei a Vivaro, quindi veicolo commerciale medio, sempre in questo caso tre lunghezze, fino a circa 7 metri quadri di cubatura di carico, 4 metri di lunghezza di carico con il flash a disposizione, spazioso ma compatto esternamente, quindi potete entrare anche nei posti più angusti. Motori potenti, efficienti, tutti Euro 6 D-Temp, i diesel 1.5 e 2.000 con potenze da 100 a 180 cavalli, in questo caso anche con uno splendido cambio automatico AT8. Possibilità di averlo anche nella versione combi, quindi trasporto persone fino a 9 posti, doppia gabina o addirittura anche il pianale sul quale potete sviluppare le vostre personalizzazioni. Oggi ve lo andiamo a proporre sempre con l'easing top Riccardi Auto, a soli 169 Euro al mese, sempre con tutti i nostri servizi inclusi. Calcolate che in questo caso per potervi offrire queste promozioni abbiamo applicato degli sconti fino al 41%, quindi sappiate che il 40-41% ce lo mette Riccardi Auto e voi potete addirittura poi usufruire degli sconti anche governativi sulla dichiarazione dei redditi, non dovrei dirlo però va bene. Ora parliamo di Movano, Movano è il nostro veicolo commerciale grande, è molto versatile, ci sono tantissime lunghezze, addirittura 4, 3 altezze fino a 20 metri cubi come potete vedere per il gran volume di carico. I motori 2.3 turbodiesel da 135 a 180 cavalli, si possono avere nelle versioni van, doppia gabina, telaio sul quale potete mettere tutti gli allestimenti personalizzati e la versione combi fino a 9 posti. Oggi con la super rotamazione Riccardi Auto ve la proponiamo con leasing top a soli 199 euro al mese e con tutti i servizi inclusi. In questo caso lo sconto sfiora il 44%. Incredibile. Ampia disponibilità di chilometri zero che potete vedere sempre sul nostro sito www.riccardiauto.com. Abbiamo Crossland X, Granland, Mokka, ancora qualche esemplare di Mokka, chilometro zero, Zafira Tourer, Astra, Station Wagon e Berlina e in signa sia Station Wagon che Berlina. Sconti fino o anche oltre il 40% sul prezzo di listino. Possibilità di acquisto che con scelta Opel veniteci a trovare che sicuramente riuscite soddisfatti. Bene, ci fa il segno che dobbiamo salutare. Ciao Giovanni, alla prossima. Grazie a Rosi, grazie a tre, grazie a tutti, e vi aspettiamo.